buonasera ragazze eccoci qua con i biscottini ho fatto questi biscottini un po a forma di orsacchiotto un cuoricino stellina insomma mi sono sbizzarrita e quelli al centro hanno la nutella al centro le fatti stile panino e poi qui ai lati ci sono dei semplicissimi biscottini singoli insomma mi sono sbizzarrita con la pasta frolla l'ho fatta ieri sera l'ho lasciata in frigo fino a stamattina e questa mattina mi sono divertita a fare un po di biscotti con federico a stampare delle formine e niente io sono in altissimo mare perché devo finire le pulizie di casa e pomeriggio sono le 18 però ho iniziato apposta tardi di pulire perché domani avrò ospiti a casa per capodanno non vediamo l'ora di festeggiare insieme i nostri amici e quindi insomma adesso mi mi sbrigo facciamo un po di faccende insieme poi pensavo di farvi vedere in questo vlog i regali che ho ricevuto per natale un po alla veloce non farò un video dedicato come gli altri anni però ve lo ve lo dirò nel vlog nel titolo del vlog magari i miei regali di natale insomma vi farò capire che in questo vlog vedrete anche cosa ho ricevuto per natale e vi faccio sbirciare anche cosa hanno ricevuto i bimbi eccomi mi vedete anche di persona tra l'altro stasera conto massimo domattina ma devo farlo stasera voglio fare le unghie col semi permanente che mi hanno regalato a natale perché ho delle dita bruttissime tutte un po da quando ho tolto il gel ho ripreso il mio viziaccio maledetto e niente sono troppo felice ragazzi che domani è capodanno so che mi divertirò tantissimo perché la mia amica viene qui già a mezzogiorno quindi passeremo tutto il pomeriggio insieme preparere prepareremo insieme e sto pensando già di fare due blog uno mentre saremo insieme al pomeriggio e poi uno lo faremo per proprio la seratona di capodanno tutti insieme con anche ricky fabio il suo ragazzo insomma non vedo l'ora anche lei freme dalla voglia di passare questa giornata insieme di iniziare l'anno con il botto insieme e sono troppo felice e niente quindi adesso io mi sbrigo con le pulizie così mi porto avanti anche per domani perché questa mia amica arriverà prestissimo e così insomma domani mattina sono un po più leggera devo solo giusto fare le cose base tipo aspirare lavare eccetera e le cose extra le ho già fatte oggi e poi niente dopo preparo anche la cena per me per fede e niente quindi mi vado a sbrigare allora ho sentito ricky e dice che lì non ce n'è quindi quindi li prendiamo domattina dai cinesi sì è l'unico modo perché se da lì da te non ci sono e da lì neanche l'unico modo è prenderle domattina conosciamo per commissioni quindi non ti preoccupare le prendiamo nelle stelline un momento panico da stelline perché non è capodanno senza un briciolo di fuoco d'artificio ma non li facciamo i fuochi d'artificio perché abbiamo il cane non vogliamo insomma siamo un po contro questi gran casinino di botti cose però due stelline da accendere sul balcone fanno un po di magia quindi le prenderemo domani mattina stiamo cercando all'ultimo minuto vi faccio vedere anche le cosine che ho ordinato su solito amazon prime now che ci siamo dimenticati completamente per capodanno quindi ho preferito vi faccio vedere anche le poche cosine che ho preso da amazon prime now che sono proprio due o tre cosette che mi sono ci siamo dimenticati di prendere facendo la spesa l'altro giorno ovvero birre per capodanno una per fabio una per ricky poi in realtà mi sono sbagliata perché avevo preso prima queste poi ho cambiato idea e ho preso queste in realtà mi sono dimenticata di toglierle però vabbè fa niente tanto ricky sarà contento che c'è qualche birretta in più poi ho preso questo detersivo per sia a mano che lavatrice a marsiglia piccolino poi ho preso questo qui per il vc mi trovo molto bene con questo qua il duck quello a gel che appiccichi direttamente al al dentro al vicino né non rimane appeso anche perché nel nostro vc quelli appesi puntualmente stanno un po traballanti quindi mi trovo molto meglio con questo e poi nell'altro sacchetto ho preso questo qui che è un detergente intimo di arcaglia con cui mi sono trovata già molto bene alla camomilla poi ho preso altre alghe perché le ho finì c'è in realtà pensavo di averne ancora e quindi non le ho comprate l'altro giorno a parte che comunque non ne avevano più però in ogni caso ero convinta di averne ancora un bel po invece no e quindi le ho riprese per domani sera per capodanno poi ho preso questo b pack di salviette baby perché ho solo più un pacchettino lo sto già utilizzando quindi sono un po scarseggiante di salviette per ale poi ho preso ovviamente il latte e poi ho preso un budino al biscotto che le piacciono tantissimo da darle ogni tanto e il latte che vi ho fatto vedere e basta proprio veramente quattro cosine come vi dicevo allora ragazze sono in cameretta di federico e volevo farvi vedere un po alla veloce perché sono un pochettino di corsa poi federico deve andare a dormire farvi vedere cosa cosa ho ricevuto io cioè vi faccio vedere proprio solo i miei regali poi quelli dei bimbi magari mi metto con calma e faccio magari in un altro vlog ve lo faccio vedere perché adesso non credo di farcela però potrei anche provarci allora partiamo da me da per me aspettate vi appoggio qui si vede un po buio uffa aspettate devo trovare qua c'è l'alberello qua c'è un sacco di giochi perché poi deve sistemarsi la doveva farlo oggi però vabbè si è dedicato ai compiti quindi non importa lo farò poi io domani e vabbè non so dove appoggiarvi ragazzi vi appoggio qui sperando di non far cadere niente mi vedete allora ho ricevuto aspettate allora vabbè riccardo io ho fatto questa maglietta mamma mia si vede proprio male però questa maglietta di harry potter con sirius black e io sono un po una fanatica di harry potter e quindi quando l'ho vista vedete c'è il loghino di harry potter e l'ho trovata al carrefour io ve lo dico perché magari anche a voi piace volete insomma fare un pensiero al vostro compagno al vostro amico poi cos'altro c'è qua a ecco poi e vabbè quello è un pensiero che ho fatto io a ricky insieme ad altre cose che dopo vi mostro poi sempre io ma per la coppia adesso qui dentro ci ho messo un po di biglietti bigliettini ricevuti fatti eccetera mettiamo lì allora per entrambi ho fatto quindi da parte di babbo natale questa agenda che si chiama kakebo aspettate kakebo che è un'agenda costa 12 euro ma io l'ho trovata a 10 euro ed è kakebo è l'agenda dei conti di casa è uno strumento di origine giapponese per la gestione ottimale della contabilità domestica che ti aiuta a riflettere sulle tue abitudini di spesa e individuare le voci critiche su cui agire risparmio ordine controllo autodisciplina serenità e meno spreco quindi ho pensato fosse un regalino carino per per noi come coppia perché puoi scrivere a parte che ti dà un sacco di consigli e poi puoi scrivere proprio tutte le entrate le uscite quindi carino insomma per gestirci le nostre cosine quindi per la famiglia l'ho preso per per noi due insieme poi vabbè quasi tutti i bigliettini che ovviamente conserverò qua c'è scritto amore che quella che ho fatto io per riccardo poi qua c'è ti auguro natale da favola per ricky questo è il biglietto di federico per natale per la nostra bubi questo è mio per alessandra e anche da parte di ricky ovviamente questo è per me sempre da federico questo è della mia amica ramona e questo è per federico per il nostro metto federico e poi c'è ancora questa che per la mia piccolina con tanto amore questo qua è da parte di ricky per me quindi questi biglietti li terrò super custoditi perché sono quelli del primissimo natale di alessandra quindi ci tenevo a tenere da parte i biglietti di questo anno che ho ricevuto che abbiamo ricevuto poi ho ricevuto questi gel fantastici spero mi vediate ragazze di get nile che sono di super qualità get nile sono tutti gel per fare il semi permanente qua ce ne altri tre con tanto di smaltino grigio argento per fare il decoro il colore è bellissimo non ve lo faccio neanche vedere adesso con questa luce perché non renderebbe assolutamente il colore reale del smaltino sono tutti i semi permanenti questo è il costruttore poi ci sono due colori mi pare no tre colori e questo qui per fare i decori c'è sia rosso natalizio sia marroncino e dopo sicuramente cercherò di farmene perché domani è il 31 e io non ho ancora avuto tempo di farle incredibile cioè non riesco mai a fare tutto quello che vorrei fare sono sempre incasinatissima poi ho ricevuto per me riccardo da parte di un'amica di riccardo questa tisana di natale se silvia guardi il video ciao un bacione e alla melissa mela rosmarino cannella arancio da agricoltura biologica adesso non riesco ad aprirla comunque ci sono delle bustine all'interno insieme a dei biscotti che sono fatti stati fatti fuori buonissimi rimettiamo le bustine poi cos'altro vi posso mostrare a allora questo che il regalo che avete visto nel blog di riccardo che mi ha fatto un po all'ultimo minuto il giorno prima perché il regalo che mi ha fatto spedire non è arrivato in tempo e e quindi insomma ve lo faccio vedere dopo comunque cos'era e questo è buonissimo ha avuto una fortuna sfacciata perché ha avuto una fortuna sfacciata perché non era un profumo che ho richiesto che sapeva mi piaceva ha scelto lui l'ha sentito l'hanno usato lui e gli è piaciuto e me l'ha me l'ha preso a parte che il packaging è qualcosa di meraviglioso e poi adesso ve la faccio vedere allora è questo qui la scatola l'avete vista si chiama morisel purel è buonissimo lui ha avuto veramente una fortuna pazzesca perché io sono difficilissima con i profumi e vi assicuro che questo mi fa impazzire c'è buonissimo e c'è sia il c'è sia lo shower gel dello stesso profumo e poi c'è proprio il profumo che è questo qui e ha un packaging che mi è piaciuto tantissimo perché io amo queste cose in legno e assomiglia al mobile che ho in soggiorno tra l'altro quello che ci hanno regalato i miei genitori per il nostro compleanno dell'anno scorso c'è proprio lo stesso colore che piace a me è proprio legno bellissimo e ha un profumo ragazze che è buonissimo mi piace un sacco ed è stato dolcissimo perché non voleva lasciarmi senza regalo sotto l'albero e quindi la vigilia sera è corso a prendermi questo regalo per farmelo scartare il giorno di Natale e poi vabbè è arrivato ovviamente anche se dopo il regalo vero e proprio l'ho chiuso giusto? no ok quindi questo è da Riccardo poi io gli ho fatto un regalo molto utile come avete visto nel vlog e tante tante calze di spugna per proteggere i suoi piedoni dagli scarponi antinfortunistica che lui deve mettere per lavoro poi vabbè qua c'è un vestito che ha ricevuto Alessandra ma come vi ho detto quelli per i bimbi ve li faccio vedere un'altra volta sempre per me e per Riccardo scusate la luce è pessima abbiamo ricevuto la macchinetta per i popcorn questo qua è di Casanova di Casanova è una cottura sana perché li cuoce senza olio è una cottura attraverso aria calda quindi senza grassi aggiunti e ai popcorn caldi in pochi minuti comprerò poi i semini non ci ho pensato adesso che ho fatto l'ordine di prenderli mannaggia perché ero curiosissima di provarli però insomma proveremo presto sicuramente e poi che altro? ah io ho ricevuto anche un paio di pantaloni due paia di pantaloni da mia nonna questi che praticamente sono tipo dei leggings 380 denari taglia comoda senza cuciture, effetto modellante eccetera eccetera è una taglia unica ma bella abbondante quindi dovrebbe andare bene e ovviamente nero perché snellisce e poi questi pantaloni qua che sono XL questi pantaloni qua di Luna e Miele Collection e sono carini perché hanno questi dettagli un po' sverlucicosi sulle tasche sono dei classici pantaloni neri che vanno bene su tutto quindi perfetto che poi devo prontamente lavare e indossare ragazze spero di non aver dimenticato nulla è giusto così per farvi vedere al volo perché non penso di avere tempo di farvi il video sui regali poi non è che ho ricevuto chissà che flotta di regali da farvi un video sui regali ricevuti ecco principalmente sono per i bambini perché si sa noi genitori godiamo nel farvi nel vedere i nostri bambini sorridere quindi vedere scartare i regali di Babbo Natale comunque loro hanno ricevuto un sacco di cose poi dopo vi faccio vedere anche il regalo che non è arrivato per tempo di Riccardo che è un gioco che è una cosa che volevo tantissimo veramente è più o meno un anno che ho la Switch ed è un anno che desidero questo gioco che ha fatto fatica a trovare cioè e quindi insomma sono contenta sono veramente contenta dopo vi farò vedere qual è e poi niente vi dirò poi con calma in un prossimo vlog cosa hanno ricevuto i bimbi ma un sacco di cose bellissime tra cui tra cui questo tra cui un veliero dei pirati insomma è tanto tanto casino su questa scrivania veramente domani mi riprometto veramente di svuotarla allora ragazzi infatti dico regalo di Ricci è questo qui perché poi alla fine spedito a casa non è arrivato non si è capito come mai comunque alla fine l'ha trovato in negozio ed è il mio adoratissimo Super Mario Deluxe sono troppo troppo contenta praticamente ci siamo fatti lo stesso regalo e io le ho regalato il Pokémon Spada e lo mi ha regalato Super Mario io sono una fanatica fissatissima con Super Mario mi piace tantissimo quindi abbiamo già Super Mario Party e adesso è arrivato lui sono felicissima infatti dopo lo apro e lo provo vedo letteralmente l'ora e poi mi sono dimenticata ma lo sapevo che mi dimenticavo qualche pezzo quindi so già che vi farò vedere qualche altra dimenticanza in qualche altro vlog perché sono un po' stordita e niente abbiamo ricevuto anche questo cesto qua della parmigiano reggiano praticamente con il lambrusco il sugo al tartufo il salame nostrano c'era anche questa grattugia che vedete qua che è veramente fantastica poi le fornacine che sono dei se non erro dei grissini tipo del pane insomma delle quadrette di pane le ricciole che basta questo aceto balsamico poi c'è anche delle ricettine molto molto sfizioso devo dirvi la verità poi questo coltellino qua per incidere il parmigiano e basta insomma quindi questo ci è piaciuto veramente tanto molto particolare e poi abbiamo ricevuto anche questo qui le cadeau con all'interno queste cosine qua quindi c'è un pandoro di Verona della Paluani poi una bottiglia di spumante poi scatola di cotechino cotto della Bellucci una confezione di lenticchie tenuta del cervo confezione pasta i pennoni poi ci sono cioè il salame del contadino il sugo ai funghi porcini i granetti al sesamo e rosmarino e una confezione di misto di funghi secchi che è questa qui quindi insomma un bellissimo cesto anche questo a parte il cotechino che io proprio non lo posso vedere non lo mangio mai credo che avremo mi pare che abbiamo tipo due cotechini già nella nostra dispensa che sono lì in attesa di sapere di che morte morire proprio non ecco non mi piace proprio sono contentissima delle lenticchie invece che sono ricchissime di ferro e le farò super presto magari con un bel piatto di pasta insomma adesso vedremo come farle niente quindi dimenticavo questi due cesti quindi ve li ho fatti vedere amore allora dove sarà l'uetta bubi mamma non la trovo incredibile tanto per aumentare la suspense non la trovo Grazie a tutti. Buvi! Buvi! Che bello ragazze! Non vedo l'ora di giocare! Grazie a tutti!